Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come creare un disco virtuale per avere più spazio in questo caso questo disco serve per far capire al sistema operativo che hai spazio in questo caso per esempio se tu hai un giga sul disco fisso e vorresti scaricare un file di 900 megabyte non te lo permette quindi in questo caso creiamo un disco virtuale e così facendo facciamo capire al sistema che noi abbiamo spazio certe volte usano questo disco virtuale per caricare dei documenti, dei file, delle cartelle e funziona per i giochi invece più o meno perché poi si prende anche spazio sul disco fisso un anno fa ho creato questo video di 2 terabyte di spazio su pc ma attraverso windows 10 adesso lo faremo su windows 11 ovviamente la schermata non è proprio cambiata quindi basta andare direttamente su gestione disco fare azione crea file vhd io faccio sfoglia chiamo il mio disco test 1 faccio salva metto la spunta vhdx qua sopra faccio terabyte metto un terabyte faccio ok una volta creato scendo fino a giù questo è il mio disco virtuale che non è ancora allocato quindi faccio inizializza disco faccio ok è stato inizializzato quindi ora facciamo tasto destro qua sopra nuovo volume semplice e qui possiamo cominciare a creare il nostro disco faccio avanti avanti metto una lettera che voglio io metto g faccio avanti sempre avanti lasciate stare fine ed eccolo qua questo è il mio disco voilà un disco virtuale e ciò un terabyte di spazio quindi sia su windows 10 che su windows 11 è la stessa cosa in caso riavviate il vostro pc e poi non c'è più il vostro disco quindi non c'è più questo disco g significa che dovete collegare il vostro disco quindi come fare sempre su gestione disco azione collega file vhd quindi che significa collegare il file che avete creato all'inizio crea file vhd io faccio collegare il file vhd metto sfoglia e metto questo qua test 1 eccolo qua questo è il mio file faccio aprire e faccio ok il disco è già visibile quindi in questo caso se non c'è fate così collega il vostro file vhd se questo video vi è stato utilissimo ragazzi io vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e di lasciare un like prima di fare tutto questo un attimo che faccio una cosa prendo una cartella che ne so prendo il documento tutorial e lo posso mettere qua sopra eccolo qua li posso mettere i file per esempio questo pack di aumento di fps di fortnet lo metto qua sopra e niente funziona quindi come ho detto spero tanto di esservi stato d'aiuto e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao